Io voterò Potere al Popolo, una lista fatta da ragazzi venuti dal basso, che ci credono in quello che fanno e sono attivissimi soprattutto nei loro territori. Quindi persone che conosciamo, che lottano tutti i giorni al rigore di questa elezione politica, i temi sono molto interessanti, vanno dall'ambiente alla qualificazione energetica. Voto Potere al Popolo perché è l'unica forza politica che mi rappresenta oggi, parla dei problemi delle persone reali, dei problemi reali e delle persone reali, per cui mi sento assolutamente convinto di votare Potere al Popolo. Sono piccolo, però potrei vedere il Popolo perché rende più e migliore la nostra vita. Il 4 marzo ho deciso di votare e far votare Potere al Popolo perché l'unica forza politica attualmente che parla, affronta e cerca anche delle soluzioni per avere i problemi di questo Paese e della nostra terra. Quindi è vero che il 4 marzo è solo un passaggio perché dopo il 4 marzo ci impegneremo tutti insieme per costruire, portare avanti i conflutti più efficaci. Io voto Potere al Popolo perché si è fatta di persone che fanno la modernità politica, se ti ricordo, la grande. Votate Potere al Popolo! Votate Potere al Popolo!